Tanto tempo fa in un deposito vivevano cinque locomotive, di cui Edward era la più piccola e la più anziana. Il macchinista non ti sceglierà più, dicevano le altre. Lui vuole locomotive grandi e potenti come noi. Ma il macchinista era dispiaciucco per Edward. Ti vado ad uscire oggi? Certo, con molto piacere, rispose Edward contentissimo. Subito il fuoco ardeva nella caldaia di Edward e il suo cammino produceva tanto fumo. Edward si allontanò contento, ma le altre locomotive erano invidiose. Edward doveva portare delle carrozze. Per favore, dissero le carrozze, seguo cacco, non urtarci come fanno le altre locomotive. Va bene, disse Edward, cercherò di stare attento. Edward indietreggio e si agganciò alle carrozze. Grazie, dissero le carrozze, così che sai come trattarci. Edward era contento e, men che non si dica, il treno fu pronto per partire. Urrà, fischiava Edward, men che sfrecciava a lungo la campagna. Ciof, 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 guardatemi, guardatemi, ciof, 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 fischiava. Si sentiva ringiovanito. Edward arrivò a una scazione. Per prendere i passeggeri, Edward doveva aspettare il capocreno per ripartire, ma il capocreno non c'era. Edward aspettò, aspettò e aspettò. Ciof, 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 dov'è il capocreno? Fischiò. Si stava spazientendo. L'ultima volta che l'ho visto, disse un passeggero, è scatta ieri sera. Eccolo, eccolo, disse un bambino. Lo vedo, sta arrivando. In effetti, il capocreno stava arrivando. Oh, sono il recargo, ansimava. Oh, oh, ci sono quasi. Oh, 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 eccomi. Era traffelato. Ciof, un momento di riprendere il fiacco, poi svencolò la vanghiera. I passeggeri salirono a bordo e il treno fu pronto per partire. Quella sera, Edward raccontò alle altre locomotive la sua giornata. Ma, disse Gorgon, qua è creinato un semplice treno di campagna, ma io ho portato l'espresso. Abbiamo tutti lavorato più duramente di te, disse Thomas. Io ho portato il rapido delle aringhe, disse Henry. E io invece mi sono dato una bella lucidata, rispose James. Ma Edward non poteva sentire le sue compagnie che blaccheravano, perché stava sognando. Stava sognando la sua fantastica giornata.